Sono 15 ragazzi, 15 ragazzi al via, 13, ci sono 13. Vai Fabiano! Vai Fabiano! Vai Fabiano! Tira su, vai! Bravissimo Ale! Ale! Via, via! Via, via, veloce adesso, veloce, veloce, veloce! Tutto, tutto! Via giù adesso! Sono lì Ale! Tutto lì Ale! Bravi, bravo! Bravissimo, bravissimo, bravissimo! Ciao! Ale! Agile, via, via Ale! Ale, via! Dai Ale! Ale! Sotto lì! Ale, più agile, tira su un tente, più agile, veloce lì, a destra! Su, 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 in piena Ale! Siamo ormai a tre quarti gara, forza lì, 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 lì. Ale, via così, bravo Ale! Ale è così! Bravissimo, Ale! Gravissimo Ale! via partiti via che arrivano molto bene molto bene tempo si sti casini quanti giri? 61 ancora due giri ancora due il mondo è un articolo anche il senore lo defende che è un'iniziativa che è che si ha dominata dove vive la vita innanzitutto il att gjordato dell'ambipa si sotto è un切ito è un dito venire Grazie Michele! Bellissima quinta finale dei due Atleti che hanno dato la tua vita, con la gara andò... Davoninco Lassan che lui... Viene a volare eh... Perdoninco si torna mai indietro. Altro sprinto è finale.